non posso assolutamente ho diritto a riprendere in un paese libero lei è vero che ha il diritto relativamente di riprendere io ho diritto a riprendere i pullman si l'ascolto ma conosco però lei è tenuto per legge a non pubblicare no io pubblico fin se mi pare perché se lei pubblica il video si io pubblico il video anche della nostra chiacchierata siamo in un paese libero siamo in un paese libero perché se ci fosse la Rai che filma il pullman lo manda e nessuno gli dice niente io ho tutto il diritto di far vedere gli stewards schierati quello che avviene a una partita di calcio faccio vedere un pullman conosco benissimo io non l'ho filmato si ma non mi interessa non la sto riprendendo ci mancherebbe altro volevo far vedere il frosinone volevo andare a fare domande in conferenza stampa lo fate apposta ditemelo che l'ho fatto apposta siamo in un paese libero siamo in un paese libero si benissimo perché ho fatto vedere la sala del gos perché adesso faccio vedere il pullman non è un paese libero Questa è il stuardo, l'errore si fa, splevido, banca frusinata. Il sogno di lievito, l'errore si è iniziato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.